Al Via Civitella è il primo mountain bike trail dei due parchi, appuntamento domenica 8 maggio a Villa Lempa di Civitella con un percorso competitivo e ciclo turistico di 31 chilometri. Questa è un'occasione sia per gli appassionati che vogliono divertirsi quel giorno ma anche per il comune per far riscoprire il territorio. Infatti si tratta di un percorso molto molto bello che, ripeto, parte da Villa Lempa, arriva alle casermette, quindi attraverserà il bosco, il fiume, il salinello, insomma, molto molto bello dal punto di vista ambientale, dal punto di vista territoriale. Quindi noi ci teniamo particolarmente a rivalorizzare questi antichi trattori utilizzati dai nostri avi e questa volta abbiamo sviluppato un discorso con le mountain bike perché è anche una storia antica quella della bicicletta. Poi ci sarà il prossimo, il 2 giugno, per il secondo ecotrail dei Calanchi a Polesio, sempre a partenza dalle 9 e mezza e poi dopo ci sarà anche, nel 31 luglio, il quinto ecotrail dei due parchi in memoria Renata Farbreziani e poi ci sarà ancora, ad agosto, il 27, il terzo per legrinaggio interculturale del Buon Pastore e poi ancora faremo il secondo Memorial Gabriele Sorgi, la Civitella del Tronto, il 2 ottobre e poi ancora ci sarà il secondo ecotrail di Montesanto Memorial Menaria Nea e infine il 12 di dicembre la sesta Maradona in La Nosa, quindi insomma abbiamo un calendario ricco di eventi.